Nightlife, stile, tendenze. Quando la notte si fa glamour, il mega apre le porte del divertimento e inaugura la stagione più trendy di Pescara. Non solo musica, serate a tema, eventi fashion e grandi ospiti del jet set. Il tutto condito dai ritmi più hot suonati dai migliori DJ. Non resta che scendere in pista e godere la lunga, lunghissima notte mega. E qui all'inaugurazione del mega, tanti cambiamenti, tante novità, mi sono ritagliato a un piccolo spazio di dolcezza. Sono con uno di bocca al biscotto. Beh, hai visto che è successo? Quanta gente! Ormai questo è il terzo anno che lavoro in questo grandissimo locale, bellissimo. Guarda, un anfiteatro stupendo. Sono anche con i direttori artistici del mega, Marco Latorta e Pietro Custe. Marco, anticipaci qualche programma, insomma gli eventi e i vari ospiti che saranno qui presenti al mega. Allora, la stagione del mega sarà molto varia. Il sabato notte si alterneranno DJ nazionali, internazionali, ospiti tv, party fashion. Noi ci occupiamo del mercoledì e sabato, la gestione del mercoledì universitario mega, l'unico mercoledì universitario, l'unica vera notte universitaria. E poi quest'anno abbiamo un nuovo concetto di sabato, ossia un sabato come a me piace dire per molti ma non per tutti. Premieremo al mega l'eleganza, indipendentemente dall'età, al mega il sabato notte si verrà a ballare eleganti. Stiamo cercando di fare un pubblico un po' più adulto. Quest'anno il mega è l'unica discoteca grande, aperta a pescarla, l'unica soluzione per la gente un pochino più grande. Quindi cerchiamo anche un tipo di pubblico un pochino più pulito. Uno stile sempre più fashion, mentre l'energia scandisce i ritmi di una scatenatissima serata all'insegna della migliore musica, da vivere tutta di un viato fino all'alba. Cupido non ti stanchi mai, ma cosa ti dà la carica, la grinta? Ma dai, vedere tutta questa gente che comunque basta motivarli, loro sono veramente tanto eccitati, hanno tanta voglia di divertirsi, questo è quello che mi carica, sì. Abbracciamo un po' tutti i generi, comunque facciamo commerciale, con tendenze anche verso l'house. È il mio primo anno, il sabato è il per me e guardate voi, è veramente un qualcosa di speciale. Il cocktail fidgettonato della serata? Sex on the beach. E quale mi prepari adesso a me? Quale mi consigli da bere? A te, a te un bel cosmopolitan. Divertimento al massimo, ma anche sicurezza, per giocare con la musica, ma non con la vita. È importante ed è rigoroso il divertimento qui al Megà, ma altrettanto importante è la responsabilità. Sì, noi del Megà da sempre abbiamo avviato una campagna, io in particolare con il mio staff, da quest'anno al Megà abbiamo avviato una campagna a favore della guida sicura. A riguardo, tutti i mercoledì il Megà si impegna ad organizzare un servizio di basnavetta per tutti quei ragazzi che non hanno disponibilità di potersi muovere. Mercoledì 1 ottobre, grande inaugurazione, il primo mercoledì non si scorda mai, il Megà vi aspetta mercoledì e sabato. Grazie a Clemore TV, in solito speciale, mister Bucciarelli. La notte Megà decolla sulla scia di un ritmo che incalza frenetico e che non lascia altro strumento. spazio alle parole. Un solo termine per descrivere il sabato notte Megà. Esagerato. Ciao, Clemore TV.